Dipendenti anziani e inferiori al necessario, la mancanza di personale ormai è un problema cronico per l'ASL dell'Aquila e dunque per la sanità pubblica più volte denunciato. Rispetto ai 4.053 dipendenti necessari per il corretto funzionamento dei servizi e dei reparti, al lavoro ce ne sono soltanto 3.800 di unità, di cui 400 precari, con una carenza dunque di 253 operatori. Tra l'altro nell'ASL provinciale, con il blocco dei turnover, per 10 dipendenti che vanno in pensione, ne vengono rimpiazzati soltanto 2. Ed ecco allora che escono fuori problemi di una sanità pubblica spesso non efficiente al massimo, con liste di attesa lunghissime, nonostante il buon lavoro del personale in servizio. Soprattutto in estate, con le ferie, le carenze si sentono di più e spesso chi lavora è costretto a turni massacranti, in un contesto dove invece l'attenzione e la qualità dovrebbero farla da padrone. Anche il problema delle ostetriche nel reparto di ginecologia ostetricia è stato più volte denunciato. Ne mancano diverse per rispondere ai requisiti di un punto nascita di terzo livello. La spesa del personale all'ASL provinciale però ammonta 5,3 milioni di euro, in più rispetto al tetto stabilito dalla regione che ha di 192 milioni. L'assessore Silvio Paolucci, assessore della regione Abruzzo, ha di recente annunciato stabilizzazione e assunzioni. I sindacati in questo contesto faranno di tutto per far sì che i precari non vengano messi alla porta. Insomma il problema del personale resta una macchia nera all'interno dell'ASL provinciale che si spera di risolvere al più presto per assicurare una maggiore qualità nei servizi e in tutti i reparti ovviamente.